Oltre 115.000 euro per cofinanziare nove progetti di solidarietà internazionale. È la proposta approvata all'unanimità il 15 ottobre dal Comitato Regionale di Solidarietà. In una delle prossime sedute il Consiglio regionale voterà la proposta di delibera del Comitato, consentendo così di dare il via ai finanziamenti. Il Consiglio, grazie alla disabilità della Giunta Cota, ha stanziato 200.000 euro e quindi oggi abbiamo assunto contributi per nove progetti che ci sono stati rappresentati, tra cui l'acquisto in un villaggio somolo di 50 biciclette, l'abbiamo finanziato per intero, per donne e uomini che usano quel mezzo per andare a lavorare, l'acquisto di un trattore, in questo caso abbiamo dato il 50% del contributo per un villaggio sempre in Africa, la quasi totale spesa relativamente alla costruzione di vasche di idrocultura e quindi per innaffiare i campi sempre nelle zone di siccità dell'Africa e poi tant'altro ancora. Speriamo di poter fare una seconda tranche da qui a fine anno, perché in un momento di crisi forse abbiamo ancora di più l'esigenza e soprattutto il dovere di dare l'attenzione a chi è meno fortunato di noi.